Il piano operativo per la scuola d'estate è stato presentato dal Ministero alle organizzazioni sindacali già nella giornata del 26 aprile e il giorno dopo la circolare del Ministero ha ufficializzato la scuola d'estate. Il piano parla di tre fasi, in una prima fase la scuola di giugno, le attività verranno dedicate prevalentemente al potenziamento degli apprendimenti con attività di tipo laboratoriale, attività di gruppo o di scuola all'aperto. Nel mese di luglio e agosto le attività saranno più orientate agli obiettivi di tipo relazionale e infine nel mese di settembre rappresenterà un ponte tra l'anno scolastico trascorso e il nuovo anno scolastico con l'eventuale attivazione anche di un possibile sportello di ascolto, posto che comunque gli obiettivi di tipo disciplinare e relazionale saranno trasversali a tutte le attività dei mesi estivi. Quanto alle risorse in campo sono consistenti, parliamo di 510 milioni a disposizione delle scuole di cui i primi 150 milioni derivano dal decreto 41 dello scorso marzo, 40 dai fondi della legge 440 e 320 milioni dal PON, attivabili quindi mediante bando di concorso che la cui piattaforma è già attiva e che scadrà il 21 maggio. Dunque 320 milioni dal PON e gli altri che verranno destinati alle scuole sulla base del numero degli alunni, del numero dei plessi coinvolti o del personale a disposizione. I giudizi sul piano d'estate sono abbastanza positivi, Maddalena Gissi di CISL Scuola parla di una proposta interessante, ben diversa dalle tante, banalizzante e semplicistiche, sull'argomento del calendario scolastico. Anche Valentina Prea, parlamentare di Forza Italia, si mostra positiva e ricorda che anche la sua parte politica l'inverno scorso aveva proposto l'iniziativa della scuola d'estate. Francesco Sinopoli, segretario di FLC CGL, dichiara di condividere le finalità del piano ma aggiunge che si dovrebbe comunque ragionare in termini di lungo periodo e quindi con una prospettiva che superi quella dei mesi estivi. Su un punto sono tutti d'accordo, ovvero il fatto che le prerogative riguardanti la progettazione delle attività aspettano comunque alle scuole che dovranno concordare i lavori con gli enti locali, con le associazioni, con il terzo settore. E comunque si parla di attività di tipo volontario, quindi le scuole possono decidere se aderire o meno e anche i singoli alunni o i docenti possono decidere se aderire o meno. Intanto la nostra testata, la tecnica della scuola, ha appena attivato un sondaggio per chiedere ai propri lettori un parere sull'argomento e fino ad oggi 8 su 10 circa tra genitori, studenti e docenti dicono di non avere nessuna intenzione di partecipare alle attività della scuola d'estate. Grazie.